Un evento in collaborazione con... Mentol, fassi, mentol, fassi, pulsa. Martedì alle 20 e 25 su Italia 1, calcio internazionale con la trasferta in Israele del Milan. La squadra rossonera prossima al dodicesimo scudetto sfiderà a Tel Aviv la nazionale bianco celeste. Israele, Milan. Martedì alle 20 e 25 su Italia 1. Israele, Milan. Martedì alle 20 e 25 su Italia 1.